Ciro il Grande, il fondatore dell'impero Achemenide. Ciro il Grande 600-575 anno corrente. 530 anno corrente fu il fondatore dell'impero Achemenide, il primo grande impero della storia mondiale. Nato in una famiglia reale Achemenide, Ciro succedette a suo padre Cambiseuno come re di Anzan, una piccola regione dell'antica Persia. Nel giro di pochi anni, Ciro conquistò la Media, la Lidia, Babilonia e la Persia, creando un impero che si estendeva dall'Egitto all'India. Ciro era un leader carismatico e un abile stratega. Era anche un uomo compassionevole e tollerante, che si preoccupava del benessere dei suoi sudditi. È ricordato per la sua politica di tolleranza religiosa e per la sua attenzione ai diritti umani. La conquista della Media La prima conquista di Ciro fu la Media, un regno situato a nord-ovest della Persia. Il re Medo Astiage era il nonno materno di Ciro e aveva cresciuto il giovane come un figlio. Tuttavia, Ciro si ribellò ad Astiage nel 550 anno corrente e lo sconfisse in battaglia. La conquista della Lidia Dopo la conquista della Media, Ciro si rivolse alla Lidia, un regno situato nell'Anatolia occidentale. Il re Lidiano Creso era un potente sovrano, ma fu sconfitto da Ciro nella battaglia di Pteria nel 547 anno corrente. La conquista di Babilonia La conquista più importante di Ciro fu quella di Babilonia, la capitale dell'impero babilonese. Il re babilonese Nabonedo era un sovrano impopolare, che aveva abbandonato la città di Babilonia per concentrarsi sul culto del Dio Lunare Sin. Ciro approfittò della situazione e conquistò Babilonia senza combattere nel 539 anno corrente. La politica di tolleranza religiosa. Ciro era un leader tollerante e rispettoso delle diverse religioni. Quando conquistò Babilonia, permise ai babilonesi di continuare a praticare la loro religione. Inoltre, liberò gli ebrei che erano stati deportati a Babilonia dai babilonesi. L'eredità di Ciro Ciro il Grande è considerato uno dei più grandi leader della storia. La sua politica di tolleranza religiosa e il suo rispetto per i diritti umani hanno avuto un profondo impatto sul mondo. L'impero Achemenide che fondò fu un modello di governo tollerante e multietnico. Ciro il Grande nella storia Ciro il Grande è una figura importante nella storia mondiale. È stato il fondatore del primo grande impero della storia e la sua politica di tolleranza religiosa ha avuto un profondo impatto sul mondo Ciro è ancora oggi ricordato e venerato in Iran, dove è considerato un eroe nazionale. La sua tomba, situata a Madar Soleiman, in Iran, è un importante luogo di pellegrinaggio. Ciro il Grande è un modello per tutti i leader del mondo. La sua storia dimostra che è possibile costruire un impero prospero e duraturo basato sulla tolleranza e sul rispetto dei diritti umani.